Il programma antiriciclaggio è un'app installata su Passcom, utile per gestire da parte dei professionisti obbligati gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo numero 231-2007. Per prima cosa occorre definire una classe DocuVision specifica. Accedi al menu Azienda, DocuVision, Impostazioni, Classi Documento, crea una specifica classe, posizionandoti in una riga vuota, digitando Antiriciclaggio e confermando il tutto. Al primo accesso alla procedura accedi alla Gestione Antiriciclaggio dal menu Azienda, Applicazioni, Gestione Antiriciclaggio e utilizza il pulsante Configura, Tabelle Aziendali, Tabella Parametri Azienda per la configurazione iniziale. Nella quale definire il responsabile antiriciclaggio, il tipo soggetto incaricato, se è studio associato, la classe DocuVision, il limite dei contanti, la stampante PDF a 4 verticale, se si lavora con la data terminale e i giorni di frequenza del monitoraggio. Definisci l'indirizzo a cui inoltrare le segnalazioni operazioni sospette e gli indirizzi ragioneria a cui inviare le segnalazioni di violazioni contante. Successivamente rientra con l'utente amministratore, indicato nei parametri appena valorizzati e inserisci gli utenti di sistema, autorizzati ad utilizzare la procedura, nella tabella Delegati. Dal menu Contabilità, rubrica Clienti, Fornitori accedi alla tabella Identificazioni. Accedi alla scheda Identificazioni per identificare le persone fisiche collegate al cliente, dichiarante, legale rappresentante e titolare effettivo, ricordandoti di attribuire la valutazione del rischio alla scheda del dichiarante. Salva le identificazioni in definitivo e compila la scheda Mandato. Accedi al menu Gestione Antiriciclaggio. Apri la scheda Registrazione in cui richiamare il cliente e compila i campi dichiarante, rappresentante legale e titolare effettivo. Nel campo Prestazione dall'elenco proposto definisci la tipologia di prestazione resa dal professionista a favore del cliente, compila la valutazione del rischio sulla prestazione e nel campo Dettaglio descrivi sinteticamente la natura e lo scopo della prestazione professionale, salva il tutto in definitivo. Rientra nella registrazione appena salvata e stampa i documenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio da conservare all'interno del fascicolo del cliente, stampa identificazione, stampa valutazione rischio, stampa privacy, stampa dichiarazione cliente B1 e dichiarazione cliente B2.